... Torna dopo la pausa dovuta agli impegni della Nazionale nelle qualificazioni e ai mondiali 2013 il campionato di Serie A1 femminile. Quella di domani è la prima giornata del girone di ritorno sesta complessiva in calendario. Si riparte da una classifica che vede il Sassari forte del suo primo posto con tre punti in più della IOMI Salerno. La formazione allenata da Carlo Baroffio è impegnata nel derby regionale di questo turno sul campo dell'HC Nuoro guidata in panchina da Roberto De Jara che invece è alla ricerca del suo primo successo in questo campionato. Il via della contesa alle 17 arbitrano Mastro Mattei e Buonatore. Sfida interessante quella in calendario domani tra la IOMI Salerno seconda forza di questo campionato è la neopromossa Alimestrino. All'andata le campane vinsero 34-38 sul campo delle Venete. Domani dunque la sfida si pronuncia equilibrata. La dirigono i signori Simone e Monitillo si comincia alle 18.30. Punti importanti sono in palio infine nel confronto del Palace a Nicolò tra HC Teramo e Lombardi Ecologia Conversano. La squadra di Seimenovic all'esordio in questo campionato si impose nel match d'apertura. Invece domani Conversano dunque riparte da un bottino di 9 punti contro i 3 della compagine abruzzese guidata dalla Brecciosa che dunque gioca per risalire la classifica a partire dalle 18.30. Arbitri Boscia e Pietraforte. Grazie a tutti.